Dopo i missili lanciati venerdì verso l'Arabia Saudita, i ribelli uti dello Yemen hanno annunciato una tregua di tre giorni e ventilato la prospettiva di un cessate il fuoco permanente. L'annuncio nel giorno in cui cadeva il settimo anniversario di un conflitto brutale contro la coalizione guidata dai sauditi intervenuta a sostegno del governo yemenita. Dichiariamo la nostra piena disponibilità a rilasciare tutti i prigionieri della coalizione, compreso il fratello Diadi, il presidente, gli esponenti delle milizie locali, in cambio del rilascio completo di tutti i nostri prigionieri che sono nelle mani della coalizione, dice il capo dell'ufficio politico UTI. Gli UTI valutano i danni dopo i raid aerei notturni che hanno preso di mira la capitale dei ribelli Sana. Gli attacchi di rappresaglia sono arrivati dopo che gli UTI, sostenuti dall'Iran, hanno sparato su 16 obiettivi in tutta l'Arabia Saudita. Uno dei missili ha centrato un impianto petrolifero della compagnia Ramco vicino alla pista di Formula 1 a Jeddah. Il deposito, che rifornisce la seconda città del regno, ha preso fuoco.